Un presunto gruppo criminale che avrebbe operato attraverso l'acquisto di accessori di lusso, principalmente orologi, mediante assegni circolari falsi è stato smantellato dalla polizia di Perugia. La banda era guidata da un soggetto detenuto nel carcere di Poggio Reale, Napoli. Nonostante la prigionia, gestiva le attività del gruppo attraverso l'uso di cellulari. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Raffaele Cantone, hanno portato a sette misure cautelari in carcere e una di obbligo di dimora nei confronti di soggetti residenti nella provincia di Napoli, accusati di associazione per delinquere finalizzata alle truffe. L'indagine è scaturita da una denuncia presentata l'anno scorso da un cittadino di Perugia, vittima di un falso assegno circolare di oltre 8.000 euro utilizzato per l'acquisto di un orologio di valore su un sito di e-commerce. Le successive perquisizioni hanno portato al sequestro di telefoni cellulari, gioielli, computer e appunti manoscritti, evidenziando un'organizzazione criminale con ruoli ben definiti. Il modus operandi di della banda prevedeva la ricognizione di piattaforme di e-commerce, il contatto telefonico tramite messaggistica e WhatsApp per guadagnare la fiducia del venditore, e la predisposizione di assegni circolari falsi con dati bancari della vittima. Il presunto gruppo aveva anche creato numeri telefonici VIP e pagine internet false di banche emittenti, rafforzando la credibilità delle truffe. Il GIP di Perugia ha emesso nove perquisizioni presso le abitazioni degli indagati, inclusa la casa circondariale dove è detenuto il presunto capo dell'associazione. L'operazione è stata condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle comunicazioni di Perugia, in collaborazione con varie unità di polizia specializzate a livello nazionale. Questa operazione ha svelato un articolato sistema di truffe, mettendo in luce la sofisticatezza delle pratiche criminali, dall'elaborazione di assegni falsi alla creazione di identità e numeri di telefono fasulli. L'azione delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di numerosi membri della banda, riuscendo a mettere fine a un'attività criminale che ha causato danni ingenti in termini finanziari e reputazionali alle vittime. A 11 anni dall'orribile tragedia che ha colpito l'Umbria, la memoria di Margherita Peccati e Daniela Crispolti continua a vivere. Il 6 marzo 2013, queste due dipendenti regionali furono barbaramente uccise sul posto di lavoro, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di familiari, colleghi e dell'intera comunità. Oggi, nel centro regionale del Broletto, si è tenuta una commovente cerimonia per onorare la loro memoria. La presidente della regione Umbria, Donatella Tesei, ha pronunciato parole di commozione e rispetto. Il dolore per l'uccisione di Margherita e Daniela è un dolore che non verrà mai dimenticato. Oggi è la giornata in cui ricordiamo le nostre due dipendenti collaboratrici della regione Umbria, purtroppo uccise barbaramente. È un giorno di ricordo, di commemorazione e anche di una preghiera perché è giusto che rimanga sempre vivo nel nostro cuore, nel cuore di tutti i dipendenti, questo momento così tragico che è stato vissuto undici anni fa. Ci stringiamo alla famiglia, naturalmente, a cui abbiamo sempre dimostrato e continuiamo a dimostrare affetto e veramente li abbracciamo tutti e tutta la regione e fa questo insieme a me in questa giornata. L'atrio della sede regionale del Broletto è stato adornato con un cesto di rose rosse e mimosa, simboli di amore e ricordo. I familiari delle vittime hanno partecipato alla cerimonia, insieme a moltissimi dipendenti regionali, tra cui colleghe e colleghi di Margherita e Daniela. Anche diversi membri della giunta regionale hanno reso omaggio alle due donne, riconoscendo il loro sacrificio e l'impegno profuso al servizio della comunità. L'assassino, Andrea Zampi, un piccolo imprenditore perugino con problemi psichici, entrò negli uffici della regione al Broletto e sparò contro le due donne, ritenendole responsabili dei suoi problemi finanziari. La loro morte ha lasciato un segno indelebile nella storia di Perugia, ma la loro dedizione e il loro servizio restano un esempio di coraggio e impegno. In questo undicesimo anniversario, la comunità Umbra si unisce per ricordare Margherita e Daniela affinché il loro sacrificio non venga mai dimenticato. La cerimonia di oggi è un tributo a queste due vite spezzate troppo presto, ma anche un riconoscimento della forza e della resilienza di coloro che continuano a portare avanti il loro lavoro con passione e dedizione. Sette donne coraggiose hanno preso la guida di Lino Service Sass, un'azienda tipografica storica a città di Castello, dopo la scomparsa improvvisa del fondatore nel 2020. La nostra storia nasce da più tempo, perché inizialmente l'azienda era capitanata da mio zio, che però è venuta a mancare nel 2020. Quindi noi ci siamo ritrovate sole con questa mancanza e ci siamo dette che cosa facciamo, continuiamo, chiudiamo e abbiamo detto perché le capacità ce le abbiamo, siamo un bel gruppo, ci vogliamo bene, siamo affiatate, proviamoci e per il momento ancora siamo qua. Quindi speriamo di continuare, di certo dalla nostra abbiamo che siamo un bel gruppo, ci vogliamo bene. Io penso di, quando vengo al lavoro non mi sembra di venire al lavoro, ma mi sembra di venire a casa con le persone con le cui mi trovo bene e penso e spero che anche loro abbiano lo stesso mio sentimento. Qui non c'è un datore di lavoro e una dipendente, siamo tutte insieme per l'unico scopo e cercare di fare il lavoro il meglio possibile e accontentare la gente. Nonostante le sfide, tra cui la pandemia di Covid, hanno continuato a far prosperare l'azienda, dimostrando una notevole determinazione e solidarietà. Allora noi facciamo tutto quello che riguarda la stampa digitale e la prestampa in generale. serviamo, siamo un service, quindi noi qui siamo aperti a tutti, sia per una piccola cosa che per una cosa più grande. Lavoriamo anche con realtà importanti della vallata e siamo contenti perché comunque continuano questi lavori a perseverare, quindi vuol dire che bene o male il nostro lavoro piace, quindi speriamo di continuare a accontentare la gente. Allora, questo devo dire che siamo fortunatissime perché essendo donne e tutte con lo stesso obiettivo e la stessa problematica, perché quel lavoro per noi non finisce qui, abbiamo un secondo lavoro a casa, figli, marito, eccetera. Questo ci aiuta perché quando uno ha un problema le altre lo risolvono. Quindi avere questa cosa è un punto a favore perché tutti ci capiamo. Probabilmente se c'erano gli uomini magari certe cose non le avrebbero capite, invece noi le capiamo. Il comune ha celebrato la loro storia in occasione dell'8 marzo, sottolineando i loro valori etici nel campo lavorativo e sociale. Soprattutto l'ho fatto per il mio marito perché noi non avendo bambini, figli, per lui era la famiglia, questa era la famiglia, quindi di conseguenza parlando con loro che loro veramente ci tenevano tanto e sinceramente sono state quasi più male di me, ho deciso di andare avanti. e posso solo dire grazie a queste ragazze che lavorano con me, che mi hanno dato vita soprattutto e poi hanno fatto tutto loro diciamo. Io non so come ringraziarle e soprattutto sono contenta perché il mio marito voleva andare avanti e quindi io assolutamente non potevo non fare quello che voleva lui perché io me lo sento, lui è sempre più vicino a noi e oggi si guarda Sì, ultimamente abbiamo preso una nuova macchina che era quella che dal 2020 mio marito già diceva che era un completamento di quella che ci saliva e quindi abbiamo preso anche quella e pochi mesi però spero che, ecco, vedo che comincia a ingranare la cosa insomma. Dunque è una stampa che nel 2003 abbiamo cambiato capannone e lui ha voluto fare in un'unica soluzione questa stampa praticamente è da il villaggio da Padule a Gubbio perché sono 8, allora adesso è un pochino dopo 20 anni la cosa è più semplice però prima erano 7-8 scatti che lui ha fatto rimontati e stampati con un plotterino, i primi plotterini poi a 20 metri lui si è fermato perché non aveva più la parete del capannone e quindi sono tutte cose che lui ci teneva era la sua vita questa, non c'è niente da fare, lui diceva sempre anche quando sarò vecchio verrò qui, mi aiuti col bastoncino, io voglio stare qui dentro e quindi era impossibile non fare il suo desiderio. Oggi l'InnoService SAS rimane una realtà importante nel settore della prestampa e stampa digitale Diciamo che più che coraggio è la capacità e la perseveranza di riuscire in qualche modo ereditare una storia importante che Tatiana si è assunta insieme alle sue maestranze di affrontare verso il futuro. La caparbietà è una dote in generale ma in qualche modo la connoto al femminile queste donne in qualche modo dimostrano come nella società il valore anche produttivo e di crescita passa soprattutto attraverso loro quindi il messaggio dell'8 marzo è una giornata, una giornata celebrativa in realtà il loro sforzo è uno sforzo quotidiano, di tutti i giorni che danno benessere alla nostra comunità quindi quella di oggi è un ringraziamento soprattutto per il ruolo che hanno svolto che stanno svolgendo e l'augurio ovviamente per quello che svolgeranno anche in prospettiva e semplicemente in dire grazie. Sì, Claudio è uno insieme a tanti che hanno permesso a questa realtà di connotarsi per essere un distretto importante sul settore tipografico quindi proprio in virtù di quella eredità, proprio in virtù di quella tradizione che queste donne hanno accettato una bellissima sfida e veramente devo rimarcare come questo sia il valore aggiunto della nostra realtà donne, uomini, ma in questo caso siamo con delle donne che in qualche modo garantiscono la prospettiva di crescita della nostra comunità e della nostra città di Castello. Pietre che cantano Lo stigma del fuoco 22 spettacoli in 12 comuni dell'Umbria Ben oltre i numeri, quello di Umbria Ensemble è un calendario che fa della qualità, oltre alla quantità, il suo punto di forza una rassegna di spettacoli dal vivo tematica e dall'ispirazione fortemente unitaria sul tema della disciplina e delle stimmate francescane tema declinato sia nel versante sacro che in quello laico interpretato come sacro fuoco dell'arte con la presenza di grandi artisti di discipline diverse in un panorama culturale e artistico assai affollato di eventi di ogni tipo è una rassegna fortemente coerente e connessa tra gli eventi dello stesso cartellone così da guidare il pubblico in un itinerario formativo sempre più logico organico ed approfondito grazie anche alle presentazioni che anticipano ogni singolo evento specificamente creato per il sito di destinazione. L'edizione 2024 si articola in 22 concerti di anno in anno continuano a crescere con l'offerta e anche con la rete dei comuni che aderiscono perché saranno 12 comuni dell'Umbria quindi una rete fittissima non solo istituzionale perché poi oltre ai comuni e alle pubbliche amministrazioni abbiamo anche l'università, abbiamo anche la sorrintendenza quindi i conservatori dell'Umbria quindi una rete istituzionale ma soprattutto una rete artistica perché avremo eventi trasversali interdisciplinari tra la musica classica dal vivo come ovviamente potete immaginare ma anche danza, poesia, teatro, spettacoli con Alessandro Preziosi, Paola Gasman ma anche la danza di giovani talenti e di danzatori e coreografi affermati avremo un'installazione di Giuliano Giuman che tra l'altro come vedete ha offerto la sua opera che si chiama Fuoco per il fondo di questa locandina di presentazione c'è un bellissimo dialogo anche qui sulla grafica Giuman che è stato già come sapete un direttore dell'Accademia di Belle Arti ci ha offerto la sua opera come sfondo e è stata poi elaborata graficamente da uno studente dell'Accademia di Belle Arti dunque a simboleggiare anche una continuità generazionale che noi abbiamo garantito anche con il nostro concorso Umbria Ensemble per i Giovani i cui vincitori saranno protagonisti presenti anche nella nostra rassegna in alcuni dei concerti collaborazioni anche con l'Isola del Libro Trasimena, un festival letterario insomma la musica di qualità, la musica d'arte che dialoga con le altre arti proprio nell'insegna di quella creatività e di quelle piacere della riflessione della bellezza e del ritrovare ad essere in prima persona con l'arte che probabilmente ci sta un po' sfuggendo nella vita di tutti i giorni che sono momenti importantissimi che dobbiamo recuperare nella frizione collettiva il primo appuntamento sarà questa domenica 10 marzo a San Giustino, Villa Graziani con un appuntamento tutto dedicato al talento, al talento delle donne Fanny Mendelssohn, sorella di Felix Mendelssohn con la sua musica e quella del fratello quindi un confronto scontro, un incontro scontro fra due fratelli proprio per dar voce a una donna che non ha avuto la possibilità di esprimersi per le vicende che possiamo immaginare e si concluderà il 30 di settembre, il 29 settembre anzi a Cannara con una prima esecuzione assoluta fra Alessandro Brustenghi che tutti immagino conosciate, come compositore ha dedicato un brano ad un reensambla che chiude proprio nel segno dell'ispirazione di questa edizione Stigmata si chiama il brano dedicato alle stimmate di San Francesco perché ricordiamo che quest'anno corre l'ottocentesimo anniversario delle stimmate di San Francesco Stimmate nel senso francescano, religioso, ma anche nel senso laico del fuoco il sacro fuoco dell'arte e questo ne vogliamo riportare in scena Sì, Perugia torna ad essere uno dei centri importanti di questo programma ricchissimo offerto da Umbria Ensemble alla nostra regione le pietre che cantano una meraviglia in musica perché viene esaltato non solo nell'importanza della melodia ma l'importanza dei luoghi toccati nella nostra città si tornerà al convento di Monteripido si tornerà a San Pietro e alla terrazza del mercato coperto luoghi suggestivi, luoghi di grande significato anche perché correlati al tema principale di quest'anno che è il fuoco il fuoco declinato sia in senso laico sia in senso religioso in senso laico come appunto il sacro fuoco dell'arte in senso religioso come riferimento al 2024 quale anno ricorrenza delle stimate francescane a Laverna e come accompagnamento verso il grande centenario francescane del 2026 quindi un connubio straordinario, strepitoso tra bellezza dei luoghi, musica e storia ha fatto registrare il tutto esaurito la data perugina dello spettacolo istoria tango nuovo ai confini del jazz andate in scena con successo all'auditorium San Francesco al Prato regalando al pubblico una serata all'insegna di buona musica passione per il ballo e solidarietà L'evento è stato organizzato su iniziativa dei Rotary Club di Perugia Perugia Trasimeno, Perugia Est, Forte Braccio Montone, Città della Pieve, Terre del Perugino L'iniziativa è un'iniziativa che è un segnale di attenzione che conferma il nostro impegno sul territorio e verso la nostra comunità Abbiamo voluto organizzare questa iniziativa proprio per dare un segnale concreto in questa direzione e l'intero ricavato della serata sarà destinato alla Caritas Diocesana con la quale abbiamo convenuto di adottare, possiamo dire, alcune famiglie del nostro territorio che vivono in situazioni di particolare disagio Riteniamo che con l'impegno piccolo, impegno di ciascuno possiamo fare tante tante cose tutti quanti insieme e pertanto l'obiettivo, credo, stasera sarà raggiunto è una volontà di essere qui, di essere in città e di essere vicini a chi la città la vive e chi nella città ha bisogno e purtroppo aumentano sempre più le persone che vivono disagio Sul palco si sono esibiti alcuni protagonisti della popolare trasmissione del sabato sera di Rai 1 Ballando con le stelle liberamente ispirato alla figura di Azucena Maizzani una delle prime donne drag performer a cantare tango negli anni 30 del Novecento lo spettacolo ideato da Daniele Bocchini e prodotto da TCC Eventi valorizza il talento e la passione per la musica come strumenti di emancipazione, riscatto e sopravvivenza in una società fortemente maschilista e pregiudizievole nei confronti delle libertà e della dignità della donna Sulle note del tango in chiave jazz il programma musicale di istoria passa per il son cubano di Miguel Metamoroso, Svaldo Farris e Isolina Carriio fino al pop internazionale di Sting, Amy Winehouse, Cer e Pino Daniele attraverso l'eleganza del tango, del bolero latino e del tango flamenco Una serata all'insegna della bellezza, dell'arte una serata che ha coniugato arte e carità e di questo abbiamo bisogno camminare insieme per dare una risposta ai poveri della nostra città i bisogni aumentano e abbiamo proprio bisogno di fare rete queste serate danno proprio la possibilità di sperimentare toccare con mano la solidarietà di tanti camminare insieme per aiutare e rispondere alle esigenze delle oltre 3200 famiglie che in questo momento fanno riferimento a Caritas Una disfatta, una Waterloo per il Perugia a Chiavari, un 5-0 una serie di schiaffoni che riportano la squadra di Formisano sulla terra anzi un pochino più in giù questa sconfitta maturata in una maniera a dire poco vergognosa tanto che alla fine della partita lo stesso allenatore il direttore sportivo Giulia Relli hanno chiesto scusa ai tifosi ha detto che il Perugia non è stato mai in campo non c'è da fare alcuna valutazione proprio perché sono stati superati i grifoni dagli avversari lungo e largo dall'inizio alla fine senza mai un picco di replica giusto per dare senso a questa partita che ha dell'incredibile ora la situazione si è molto complicata perché la carnaresi ha battuto addirittura la capolista Cesena ed ha allungato di 4 punti sul Perugia mentre il Gubbio ha vinto la sua partita con l'Arezzo e si è portato ad una lunghezza il Gubbio ha giocato una buona partita ha messo ancora in luce i suoi attaccanti Di Massimo da una parte Bernardotto nel finale sono gli autori del gol Di Massimo ha sbagliato un rigore questo è l'unico problema della squadra un'ultima curiosità riguarda il fatto che alla fine della partita al novantesimo è saltato l'impianto elettrico tutto si è fermato per dieci minuti facendo temere per la prosecuzione per gli ultimi minuti di recupero della gara invece poi tutto è andato al meglio ed anzi è proprio in questo momento che Bernardotto ha siglato il gol del 2 a 0 dal calcio alla pallavolo questa sera inizia il cammino del Sir Perugia contro il Verona al Pala Evangelisti il cammino dei playoff finali sarà una partita ovviamente molto delicata ed importante la squadra cerca di affrontarla nella maniera migliore perché fino ad oggi ha centrato tutti gli obiettivi possibili tre trofei su tre partecipazioni ed ora la squadra e l'ambiente si aspettano che possa centrare anche questo risultato la Sira ha nella sua bacheca uno scudetto avrebbe voglia di mettercene un altro ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera l'almanacco italiano dal 1762 giovedì 7 marzo Ariete il passaggio della luna in un cielo più amichevole vi dà l'opportunità di sentirvi centrati e disponibili in primo piano i progetti di gruppo tenete sempre conto delle innovazioni sia quelle tecnologiche sia quelle relative ai concetti ideali d'oro il rendimento in termini pratici sarà influenzato dalla quadratura della luna a giove nel vostro segno occorre rivedere la tabella di marcia la solidarietà degli amici e del partner è qualcosa che dovete guadagnarvi non pretendere e basta gemelli vitalità e forza fisica grazie al trigono della luna in acquario vi offrono l'energia per rispondere alle convocazioni inattese della vita sociale qualche ora da passare dove con chi preferite nel lavoro puntate molto sul gioco di squadra cancro non è facile stabilire un equilibrio tra le mille cose da fare e la necessità di riposare il senso del dovere non vi lascia mai tranquilli di fronte a proposte che comportano un eccesso di fatica dite chiaramente di no non è proprio il momento leone atmosfera poco esaltante con la luna così poco disponibile nei vostri confronti nelle faccende pratiche e domestiche siete a rischio flop l'emotività traballa soprattutto a causa della testardaggine quando vi incaponite non c'è nulla da fare vergine avete un grande potenziale ve lo dicono spesso il problema è che a volte fate fatica voi per primi a crederci date spazio a idee e originalità occasioni d'oro sul fronte delle conquiste se sapete dove gettare l'amo la pesca sarà più divertente bilancia il trigono della luna in acquario consiglia di non celare l'emozione che suscitano in voi certi ricordi non c'è nulla di male a mostrarvi sensibili vi serve qualcosa per distrarvi e smettere di pensare a una persona prima che diventi un'ossessione scorpione grande caos nella sfera sentimentale fitti banchi di nebbia sono calati sulla vostra storia d'amore e sembrano non volersi più sollevare di possibilità di confronto ce ne sono state tante ma quasi sempre si sono trasformate in discussioni sagittario soffrite l'ansia dovuta al confronto con gli altri ma a ben guardare non avete nulla da temere ridimensionate le preoccupazioni e sorridete l'incertezza fa parte della vita non sempre si può agire d'impulso riflettete e fatevi un'idea chiara capricorno il cambiamento è sempre da incoraggiare perché porta con sé dinamismo e scaccia la ripetitività della routine ad ogni modo ci vuole cautela naturale che continuando su questa linea qualcuno avrebbe preteso da voi più collaborazione in casa acquario la giornata trascorre in un clima di collaborazione e leggerezza potreste riscoprire quanto è piacevole condividere un progetto con gli amici l'animo è aperto al contatto se non foste già impegnati potreste essere vittime di un colpo di fumine pesci lo spirito combattivo emerge con forza quando qualcuno prova a toccare ciò che è vostro e che vi siete guadagnati con il sudore della fronte con un vecchio amico si ristabilisce l'intesa di una volta come se il tempo non fosse mai passato salve amici del centro meteo italiano residuo maltempo in italia ma una nuova perturbazione polare è in agguato vediamo dunque nel dettaglio le previsioni per giovedì 7 marzo al mattino nuvolosità alternata schiarite su gran parte della penisola con isolati piovaschi tra marche e basso versante tirrenico al pomeriggio instabilità che si accentua sulle regioni di nord-est contemporali e nevicate sopra i 1100 metri rovesci sparsi anche sulle regioni peninsulari meridionali in serata nottata tempo in progressivo peggioramento al nord con nuvolosità in aumento e neve in calo fin verso gli 800 millimetri sulle alpi temperature minime in generale calo massime in diminuzione al sud stazionari o in aumento al centro nord per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra app meteo un saluto da parte del centro meteo italiano un saluto da parte del centro